Ma come ne speciano? 30 anni dopo, Alessandro Diumà Quanto? 30 anni dopo Ma più forza l'avete a dire questo tempo? È un riferimento letterario Un momento perché credo che ci sia una... Scaffale di supermercato Reparto ortofrutta No, otto, orto, ortofrutta A rendere il giusto L'uva Ma che sta la scaletta? Non c'era sta cosa? Ma sta mandando Ma che fai già finisce? No, no, è siccome L'uva Scende dall'alto dello scaffale Ciao pomodorino Ciao, ciao, melenzanina Ciao, ciao, cetriolino Come fa? Scusa, scusa Minchia, ti fai l'ario, sai? Minchia, ti fai l'ario, però No, no, fa l'altro Dai, dai Supermercato La signora lo voleva vedere una volta come tu fai Ciao, ciao Devo cominciare da capo? No, no, perché la date L'uva scende dall'alto dello scaffale Ciao, ciao pomodorino Ciao, ciao melenzanina Ciao, ciao cetriolino Ciao, ciao fico Fico Mi fai passare il fico? No L'uva risale sullo scaffale L'uva risale sullo scaffale No, c'è vuota In che ora se fa l'aria, ragazzi, vediamo Ciao, ciao Ciao pomodorino Ciao melenzanina Ciao, ciao cetriolino Ma non tu sei l'ario Sì, ma cusci munito quando hai questa cosa, sai? Ciao, ciao fico Ciao, ciao fico Fico? Fico Mi fai passare, è il fico No No Mentre ora comincia la capo E da sopra cominciamo la trova L'uva No, scaffale Risale sullo scaffale Maria Santista Appunto, perché se si usa uva scaffaluta Perché se sale sullo scaffale 60 volte Diventa sicca Ciao, ciao melenzanina Ciao, ciao pomodorino Ciao, ciao cetriolino Ciao, ciao fico Fico Mi fai passare? È il fico No, è l'uva Fico secco Dove è che ha finuto? Ora c'è la minchiata precisa E l'uva passa Ecco, è il luogo È il luogo che mi fottemmo a tutti Fico secco Che sta una battuta bestiale È il luogo che mi fottemmo a tutti